Il Puglia Active Network è il più esteso progetto di Smart Grid al mondo. Nasce nella regione italiana, con la maggior produzione di energia da fonti rinnovabili. La Smart Grid è una rete intelligente, in grado di raccogliere dati in tempo reale da numerosissimi terminali, favorendo l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile. La capacità di accogliere un maggior flusso di energia rinnovabile, ottimizzando il traffico energetico, ossia la Hosting Capacity, è uno degli obiettivi della Smart Grid. La tensione di rete, come la pressione del sangue, va mantenuta entro certi intervalli. Una serie di sentinelle controllano, effettuano misure e riportano i dati in tempo reale al sistema di regolazione per garantire una fornitura stabile di energia. A questo scopo si utilizzano anche le informazioni meteo, in modo da prevedere la generazione da fonte rinnovabile. Grazie ad apparati intelligenti presenti nelle cabine, è possibile isolare la parte di rete interessata dal guasto in meno di un secondo. È la Smart Fold Selection, un'eccellenza tutta italiana. Come quando ci scottiamo una mano e i recettori avvertono il pericolo prima ancora che il segnale arrivi al cervello, così anche nella rete vi sono sensori in grado di individuare un guasto e di intervenire tempestivamente in modo autonomo. Le Smart Grid incentivano anche la mobilità ecosostenibile. Grazie al PAN, le colonnine sono integrate con la rete di distribuzione e possono alimentare più vetture contemporaneamente e in tempi rapidi. Puglia Active Network, una tecnologia 100% italiana e una best practice da esportare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS